Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra B1-11 e B1 variante di Valico. Regolarizzato al momento il traffico in A11, in Fipili permangono 3 km di coda per lavori verso Firenze tra Empoli ed Empoli Est, sempre verso il capoluogo rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per la cantieristica segnaliamo sensi unici alternati per lavori di sfalcio della vegetazione fino al 9 agosto sulla SP 107 di Legri e del Carlone nel comune di Calenzano, sulla SP 131 di Bilancino nel comune di Barberino del Mugello e sulla SP 129 Masso Rondinaio nel comune di Scarperie e San Piero. Moveressi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Meropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!